buongiorno a tutti ragazzi buongiorno buongiornissimo e allora non faccio neanche in tempo a mettere la previsione che a mezzo colpo ci portiamo a casa un ambo secco questa è una tecnica ragazzi che mette veramente paura non ci ha pagato il terno secco ma ci ha pagato lambo secco secchissimo avevo detto che chi voleva questa tecnica valore 70 euro è aumentata ragazzi è aumentata adesso ce ne vogliono 90 per prendere questa tecnica questa tecnica è veramente qualcosa di spettacolare la previsione che era qui era 22 77 uno dei due ambi e cosa sarà uscito eccolo qui 22 77 ambo secco e 21 77 ambetto andiamo a vedere andiamo a vedere complimenti al gruppo abbonati perché glielo ho messa e complimenti a tutti quelli che hanno acquistato questa previsione 22 77 qui c'è un euro di ambo e un euro di ambetto perché ovviamente ha pagato ambo e ambetto andiamo avanti eccolo qui 22 77 previsione uguale per tutti per tutti andiamo avanti eccole qui un altro 22 77 un euro di ambetto 50 centesimi di ambo e ci portiamo a casa sia l'ambo secco che l'ambetto andiamo avanti questa era la previsione che avevate acquistato la promozione delle due previsioni genova torino 33 88 sortito 33 87 ruota di genova bellissimo ambetto complimenti a tutti eccola qui 22 77 napoli torino nazionale anche qui un euro di ambo e 50 centesimi di ambetto andiamo avanti torino nazionale torino nazionale non ci ha pagato il terno secco ma noi ci portiamo a casa un bellissimo ambo secco eccolo qua 319 euro perché perché c'è sia l'ambo che l'ambetto è normale andiamo avanti andiamo avanti eccolo qui un euro di ambo e un euro e 50 di ambetto 22 77 228 euro più 58 300 euro portate a casa andiamo avanti ne faccio vedere solo qualcuno è perché se no qualcuno poi rosica eccolo qui andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo a vedere gli ambi secchi guardate che bello due euro di ambetto e 50 centesimi di ambo con 7 euro e 50 più la previsione che è costata 10 euro con 177 euro guardate qui guardate qui guardate qui andiamo avanti 22 77 previsione uguale per tutti e poi il mio gruppo abbonato e non si può lamentare perché gliel'ho postata messa lì bella accontento sempre i miei qui 22 77 napoli torino nazionale un euro di ambo adesso molti sono quelli che hanno acquistato la previsione eccola qui 22 77 con 10 euro si acquista la previsione con 6 euro si gioca la previsione 16 euro di spesa a mezzo colpo 200 e passa euro di ambo e 58 di ambetto andiamo avanti eccolo qua tutti per voi una scarrellata pazzesca e ripeto ne faccio vedere solo qualcuno perché vado a prendere gli ambi secchi eccoli qua eccolo qua 22 77 3 euro di ambetto e uno di ambo bellissimo lo spettacolare ancora 22 77 ovviamente li ho caricati in parte sulla mia pagina facebook allora che dire ragazzi queste sono le tecniche inedite che iniziamo a giocare e ripeto stasera non è uscito io ho dato il 29 avevo dato il 29 come numero giolli da mettere per interno è uscito il 39 sia a napoli che a nazionale vedete eh vabbè ma questa tecnica il terno secco lo farà intanto ci portiamo un bellissimo ambo secco ma mica ci possiamo fermare non ci possiamo fermare qui scegliamo perché ovviamente eccola qui questa numero giolli lo possiamo depennare perché non c'è neanche bisogno che stampo ho detto che in questo in questo periodo la lottomatica ci vuole bene perché abbiamo preso l'ambo secco 22 77 e la lottomatica mi ha detto tuo capitano c'è l'altra condizione te la metto su un piatto d'argento e allora eccola qui il gladiatore due ruote due ambi su questa previsione non voglio aggiungere altro allora qui noi andiamo a giocare ovviamente sempre per l'ambo secco qui il terzo numero per l'interno non c'è qui si giocano due ambi che ovviamente sono un'unica terzina questa mattina nel tardo pomeriggio farò l'aggiornamento sul mio gruppo abbonati perciò state tranquilli che chi è abbonato non deve acquistare la previsione mentre tutti quelli che hanno acquistato la previsione hanno fatto l'ambo secco se vorranno da oggi da oggi pomeriggio ero da stamattina da oggi pomeriggio si può mandare il messaggio su whatsapp e si può acquistare quest'altra bellissima previsione qui sono due ruote due ambi ma sono tre numeri perciò noi giochiamo per l'ambo e lambetto e poi giochiamo per l'interno secco ragazzi i fatti parlano chiari gli scontrini ve li faccio vedere questa è una tecnica che ripeto fino a ieri qualcuno mi era chiesta glielo data per 70 euro oggi questa tecnica chi la vuole questa tecnica costa 90 euro ragazzi questa è una tecnica che sta facendo veramente sfracelli e ripeto non la darò a tutti perché finché questa rimarrà nel cassetto del capitano questi saranno i risultati questi sono i risultati ambo secco più ambetto e adesso c'è un'altra super previsione ma super 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 che potrebbe pagare a colpo potrebbe pagare a colpo ma questa è una tecnica che non arriva a tre colpi di gioco non arriva chi ha acquistato 33 88 questo era un terzo colpo di gioco ci ha sparato lambetto ok 22 77 chi l'ha acquistata oggi stamattina va a incassare perché c'è il lambo secco e lambetto e la condizione che si è verificata in questo quadro strazionale è collegata a questo quadro strazionale perciò sono due condizioni che richiamano questo ambo e noi saremo pronti a giocarlo perciò tutti quelli che vorranno da oggi pomeriggio messaggino su whatsapp non chiamatemi e potete acquistare questa bellissima previsione che sta veramente dando soddisfazione ragazzi complimenti a tutti per le vincite qui non si scherza con questa tecnica non si scherza noi siamo pronti a vincere chi vuole provare a vincere messaggino su whatsapp e vi dico come fare a prendere la previsione dal vostro capitano è tutto un grosso besos ciao